Sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Arezzo lungo il tratto della A1 due trafficanti di droga che trasportavano 12 kg di marijuana a fermarli una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo Battifolle all'altezza dell'area di servizio Badialpino Ovest. I poliziotti hanno notato l'auto un'utilitaria piuttosto malconcia a bordo una coppia, il conducente di 35 anni albanese regolarmente residente in Italia e a fianco la fidanzata italiana di 23 anni. I due fanno sapere gli inquirenti pur raccontando che quel viaggio era l'inizio di un periodo di vacanza, sono apparsi molto nervosi. I poliziotti hanno così deciso di perquisire l'auto e nel portabagagli c'era un grosso trolley, all'interno 12 buste di plastica trasparente sotto vuoto contenenti 12 kg di marijuana, valore di mercato circa 120.000 euro. I due con alle spalle già qualche precedente penale sono stati arrestati e condotti in carcere ad Arezzo e a Firenze, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.